Salve a tutti e bentornati su Jazz Convention on TV. Il nostro appuntamento settimanale si apre con la Real Interview dedicata a Luca Bragalini. Fabio Ciminiera ha intervistato il musicologo in occasione dell'uscita del suo nuovo libro Storie poco standard. Nell'intervista, che potrete ascoltare direttamente dalla home page del sito, si parla anche di Stintino Jazz, manifestazione di cui Bragalini è direttore didattico e di cui Jazz Convention è media partner. Prosegue la trasmissione di Musica Nera e Teatro, la conferenza tenuta a Pescara da Marcello Piras. Su Jazz Convention trovate già le prime quattro puntate e nei prossimi giorni sarà online la quinta ed ultima parte. Come di consueto, sono tre le recensioni presentate in home page. Questa settimana abbiamo Sonata Island Meets Mahler, Errante del Siranda Quartet e Plankton del Sestetto guidato da Helga Blankensteiner. Tra gli articoli vogliamo segnalarvi la seconda uscita di Jazz Dialogue, le interviste in inglese realizzate da Guido Michelone. Dopo il trombonista tedesco Neil Bogram, ora è il turno del sassofonista e artista visivo Ivo Perelman. Ricordiamo ai musicisti e agli operatori del settore che possono pubblicare in modo autonomo e gratuito le notizie relative agli eventi e alle uscite discografiche nelle pagine Agenda e comunicati del sito. Naturalmente, aggiornamenti e nuovi articoli li potete trovare ogni giorno su www.jazzconvention.net Jazz Convention è inoltre su tutti i social network. Vi saluto e vi do l'appuntamento la settimana prossima.